Sono Giovanni Giardina, cittadino di Ficuzza, frazione di Corleone. Mia nonna mi diceva sempre che un detto, una specie di scioglilingua, bianca montagna, nivora semenza, l'uomo che semina sempre pensa. Dicendo quando andavamo a scuola che bianca montagna significa che il foglio è bianco, nivora semenza, l'inchiostra è nero. L'uomo che semina, cioè che semina, sempre pensa, perché prima di scrivere deve pensare.